Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Arrestato dai carabinieri, l'uomo che da mesi era diventato l'incubo di frequentatori e dipendenti del supermercato di Porta Castiglione, in almeno due occasioni aveva aggredito i cassieri, fratturando un braccio a uno e prendendo a pugni un'altra, spesso per rubare merce dagli scaffali. Per il 39enne si sono aperte le porte del carcere. Residenti e commercianti infuriati in Piazzetta Musi, zona San Donato, dove questa mattina sono state multate diverse vetture in sosta. Nessuno ci ha detto niente, a terra non ci sono strisce né blu né bianche, dicono ETV i cittadini, secondo i quali gli ausiliari addetti ai controlli avrebbero fatto la contravvenzione anche alle auto ibride e a quelle parcheggiate nella proprietà privata dei palazzi. Si spacciava per incaricato Enele, proponendo contratti luce, gas a prezzi convenienti, raggirava persone anziane. E un 36enne pugliese, il truffatore denunciato dai carabinieri, a smascherarlo è stata l'ultima vittima a un pensionato che abita in zona Savena. È probabile che l'uomo abbia raggirato nello stesso modo altre persone. Venerdì 24 febbraio, a un anno dalla decisione della Russia di invadere l'Ucraina, Bologna tornerà a lanciare un messaggio di pace con una manifestazione in piazza 20 Settembre, seguita da una marcia fino a piazza Nettuno. Per le vice sindaca Clancy è il momento di chiedersi se con l'invio delle armi si sostenga, oltre alla resistenza ucraina, anche la stessa guerra. Grande fair play nel confronto più che scontro televisivo tra Bonaccini e Schlein andato in onda su Sky, un solo momento più acceso, seppur con toni pacati fra i due candidati emiliani alla guida del partito, qualche scintilla sulla valutazione del governo Meloni, domenica nelle urne sarà battaglia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di ITG. È stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che almeno dallo scorso settembre era diventato davvero un serio problema sia per i clienti che per i dipendenti del Carrefour Market a Porta Castiglione, a Bologna, tra rapine, danneggiamenti e aggressioni al personale. Tra l'altro anche i sindacati erano intervenuti per chiedere proprio maggior sicurezza. Il punto con Federico Balletti. Da mesi era diventato un incubo per i frequentatori del supermercato Carrefour di Porta Castiglione. A Bologna i clienti, ma soprattutto i dipendenti, erano frequentemente presi di mira da un soggetto più che molesto. In un'occasione aveva aggredito un cassiere fratturandogli un braccio perché non voleva fare la fila alle casse per pagare la birra. Il malcapitato aveva avuto 30 giorni di prognosi. Un'altra volta, sorpreso a rubare merce per una cinquantina di euro, aveva preso a pugno in faccia e minacciato con una bottiglia rotta un'altra, detta del supermercato, per assicurarsi la fuga. Ora, l'uomo, un 39enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri. A suo carico è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per danneggiamento, rapina e lesioni personali. Reati, riferiti ad alcuni dei tanti episodi avvenuti a partire dallo scorso autunno e finiti recentemente anche al centro di una protesta da parte dei sindacati CGL e Cisle Will di categoria che lamentavano il grave disagio sofferto dai dipendenti per il clima di insicurezza. Il 39enne, responsabile delle aggressioni, è stato identificato dai carabinieri grazie alle testimonianze di varie persone, oltre all'esame dei filmati, estrapolati dalle videocamere della zona. Rintracciato l'altra notte in centro a Bologna, è stato portato in carcere. Multate questa mattina le auto in sosta in Piazzetta Musi, nel quartiere San Donato. Nessuno ci ha detto niente, non ci sono strisce né blu né bianche per terra. Gli ausiliari hanno multato anche le auto ibride e quelle parcheggiate nella proprietà privata dei palazzi. Così hanno detto i cittadini, i nostri microfoni. È andato Giuseppe Pilloni. Senta, qui stamattina hanno multato parecchie macchine qui in Piazzetta Musi. Non ve l'aspettavate questa cosa? No, perché la mia macchina l'ho parcheggiata qui stamattina alle 9. Poi sono uscito a pranzo alle 12 e mezza e mi sono accorto che c'era la multa. Poi ci siamo guardati intorno e la multa era su tutte le macchine. Non sapevamo niente, non ci sono le strisce per terra. Quindi c'è parso strano che prendere una multa di 29 euro per residenti. Oltretutto abbiamo l'ufficio qua. Le multe chi le ha fatte? Le multe le ha fatte Bomob. Credo che non è che decidano loro in autonomia. Ci sarà stata una regola, qualcuno sarà stato informato. Tra l'altro questa è una proprietà privata e come potete vedere quella macchina ha preso una multa sulla proprietà privata che oltretutto è anche ibrida e non c'è una striscia bianca, una striscia blu di nessun colore. Stamattina ci siamo trovati che multavano eppure siamo in una proprietà privata con tanto di cartello che indica che la solta è consentita ai residenti e agli abitanti in questa zona qui. Ma non i residenti della zona, chi abita e ha esercizi in questa attività. E quindi è un'ingiustizia vera e propria. Noi siamo da 25 anni che abbiamo gli uffici qua, abbiamo i garage qui e siamo praticamente residenti perché lavoriamo qua. Siamo artigiani e quindi stamattina noi abbiamo tre furgoni. Ci siamo trovati a dove spostare i furgoni, ci siamo andati a fare già una multa. Questa mattina appena arrivati in ufficio noi abbiamo delle attività qua sotto il portico, abbiamo incontrato gli asuliari che stavano già eseguendo le multe chiedendo spiegazioni riguardanti al loro operato e ci hanno detto che da oggi partiva questa zona qua come residenziale. Ma nessuno di noi è stato avvisato, per terra non ci sono strisce e quindi siamo trovati così, con gente multata, chi abita qua, noi che abbiamo un'attività non siamo più in grado di poter parcheggiare dove lavoriamo. Tra l'altro dopo aver preso la multa sono andato alla ricerca di cartelli e ho visto questo che non me ne ero nemmeno accorto e credo che sia difficilissimo da leggere per chi viene per esempio da quella direzione. Allora praticamente abitiamo qua da 2013 e da quando hanno messo le strisce parcheggiamo qua perché non c'erano altri parcheggi, non ci sono strisce bianche quindi abbiamo preso la multa ma non è un nessun motivo valido perché se non mettono le strisce non possono fare la multa, uno va da avvocato e fa ricorso perché non è giustificato questa cosa qua, non c'è nessun avviso, non c'è nessun cartello che hanno messo all'inizio e alla fine della strada. Ancora una truffa smascherata dalle forze dell'ordine, si tratta di un uomo che si spacciava per incaricato Enel e raggirava persone anziane, è stato smascherato e denunciato dai carabinieri. Si presentava a casa della vittima di turno, quasi sempre una persona anziana qualificandosi come operatore dell'Enel e proponeva di cambiare i contratti relativi alla fornitura di luce e gas assicurando un risparmio sulle bollette. Purtroppo era l'ennesima truffa smascherata a Bologna dai carabinieri che hanno denunciato un operaio 36enne originario di Foggia, già con precedenti per reati simili. L'indagine è partita dalla segnalazione da parte di un pensionato bolognese di 79 anni che lo scorso novembre ha ricevuto la visita del finto addetto nella sua abitazione, il quartiere Savena. In quella circostanza l'uomo ha convinto l'anziano a sottoscrivere tre finti contratti facendosi consegnare 135 euro. Una volta instaurato un rapporto di fiducia, il sedicente operatore Enel è tornato altre volte e con varie scuse, come velocizzare l'attivazione dei contratti o farsi rimborsare le spese per le marche da bollo, è riuscito a farsi consegnare altri 174 euro. Di recente c'è stata un'ulteriore richiesta di 98 euro, di fronte alla quale il pensionato si è insospettito. Contattando gli uffici Enel ha scoperto di essere stato truffato da quell'uomo, col quale però aveva già concordato l'appuntamento per la consegna dell'ultimo pagamento richiesto. Questa volta all'incontro c'erano anche i carabinieri che hanno fermato il 36enne appena uscito dalla casa della vittima. Addosso gli sono stati trovati e sequestrati 98 euro appena incassati e alcuni fogli con i finti contratti. Nell'abitazione del truffatore i militari hanno trovato altri moduli, carte intestate, adesione a contratti per la fornitura di energie elettriche e di gas, oltre a bollette e documentazioni di vario genere, alcuni fogli in bianco, altri già sottoscritti da altre persone verosimilmente truffate in precedenza nello stesso modo. Una donna di 42 anni di origine venezuelana è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. È accusata di aver picchiato e minacciato di morte il marito e anche la figlia di 25 anni, probabilmente a causa dei suoi problemi di alcolismo. È successo domenica sera in un appartamento a Crevalcore dove i militari sono intervenuti dopo la richiesta del marito 46enne. L'uomo ha spiegato che la moglie aveva percosso la figlia, poi si era avventata contro di lui, preso a schiaffi e colpito alla nuca con il telefonino. A quanto pare non era la prima volta che la 42enne manifestava comportamenti aggressivi, sempre a causa del suo vizio di bere. Dopo i tamponamenti a catena avvenuti ieri pomeriggio sulla A13 Bologna-Ferrara, un altro brutto incidente si è verificato in serata nello stesso tratto dell'autostrada. Salè Cavata con ferite lievi, il conducente della Volvo che in serata ha tamponato un mezzo pesante lungo l'autostrada A13 nel Bolognese. L'auto si è schiantata violentemente contro il tir, andando praticamente a infilarsi sotto il rimorchio, come mostrano le immagini girate pochi minuti dopo l'impatto, con soccorritori e forze dell'ordine ancora al lavoro. Il 35enne, che era al volante della macchina, è rimasto ferito ed è stato soccorso e accompagnato in ospedale in condizioni non gravi, quasi un miracolo secondo alcuni testimoni e considerando come si è ridotta l'auto. L'incidente si è verificato mentre erano in corso di smaltimento le lunghe code dovute a un altro tamponamento avvenuto qualche ora prima nello stesso tratto autostradale fra Interporto e Altedo, direzione Ferrara. Tratto che era rimasto chiuso fino alle 17 in seguita a una carambola che aveva coinvolto tre camion avvenute nel primo pomeriggio e nella quale era rimasto seriamente ferito un autotrasportatore 46enne di Frosinone incastrato nella cabina di guida del suo camion ed estratto da vigili del fuoco E118. Anche sull'incidente è successo in serata per ricostruire cause e dinamica precisa è intervenuta la polizia stradale di Altedo. E una ragazza di 29 anni è in gravissime condizioni ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna dopo un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Monte San Pietro sulla collina bolognese per cause da accertare ha perso il controllo della sua auto che lungo via Lavino è finita fuori strada e poi contro un albero senza coinvolgere altri veicoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la donna incastrata nell'abitacolo, il 118 e anche la polizia locale. Sono rimasti irraggiungibili per alcune ore i portali di comune, Ausle e città metropolitana. In tilt anche il fascicolo sanitario elettronico inaccessibile per la prenotazione di visite ed esami e per la pubblicazione dei referti. Andiamo a sentire cosa è successo con Simona Iannessa. Blackout della rete internet per il comune di Bologna, l'Ausle e la città metropolitana. In tilt per alcune ore anche il fascicolo sanitario elettronico, tutto per colpa di un cavo inavvertitamente tranciato da un mezzo meccanico all'interno di un cantiere a Ravenna. Il cavo in questione era disgraziatamente quello attraverso cui passa il traffico dati diretto alle aziende sanitarie, così è stato necessario ricorrere ad una linea secondaria per evitare l'interruzione dei servizi. Ma neppure con questo escamotage si è potuto scongiurare il blackout dal momento che durante le fasi di ripristino della fibra interrotta è stata tolta energia per attività di manutenzione anche alla linea secondaria. A questo punto l'intera rete è andata in tilt e dalle 12 circa i siti di Ausle, città metropolitana, comune e fascicolo sanitario sono rimasti irraggiungibili fino alle prime ore del pomeriggio. Tantissime le segnalazioni di cittadini che non hanno potuto accedere ai referti di visite ed esami o effettuare prenotazioni online. Nessuna interruzione invece dell'attività clinica o ambulatoriale negli ospedali. L'epida, che gestisce i servizi informatici per conto della regione, si è subito attivata ed i tecnici hanno lavorato per ripristinare la situazione. A scanso di equivoci o dubbi, l'epida precisa che non si è in presenza di nessun attacco hacker esterno ma di un evento accidentale che ha provocato la temporanea interruzione dei dati sensibili i quali comunque sono sempre rimasti custoditi in sicurezza presso i data center. Il 24 febbraio Bologna torna in piazza per la pace a un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il corteo partirà venerdì alle 18 da piazza 20 Settembre per raggiungere poi piazza Nettuno. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco Emily Clancy e con Alberto Zucchero del comitato Bologna Europe for Peace. Sentiamoli al microfono di Rita Mandini. Ringrazio il portico della pace perché è un anno dalla prima piazza che ricordiamo tutti gremita nella nostra città. Ci ritroviamo ancora una volta insieme ai movimenti, ai sindacati, alle associazioni e lo facciamo in piazza come è stato fatto anche con Costanza in questi mesi perché è importante riportare nel dibattito pubblico una richiesta forte affinché tacciano le armi e si apre la ricerca di una soluzione, di un negoziato, che ci sia il cessato del fuoco, che ci sia un maggior protagonismo dell'Italia, dell'Europa nella ricerca della pace. Questo è il messaggio della piazza che è stato gridato forte un anno scorso nella nostra città. Purtroppo la guerra dura da oltre un anno e quindi torniamo a chiederlo a gran voce e con forza. Giusto continuare a dare armi? È un dibattito che scuote la questione morale anche nel nostro paese. Sicuramente la domanda che dopo un anno bisogna porsi è se continuando con l'invio delle armi si continua a sostenere una resistenza ucraina, che è giustissimo, chiaramente sacro santo perché si difende dall'aggressore, ma se anche si sta continuando una guerra e si sta protraendo una guerra che continua. Quindi è importante riportare nel dibattito pubblico la ricerca di una soluzione diplomatica. La città si ritrova in piazza venerdì in un forte atteggiamento di partecipazione. Saremo alle 6 in piazza 20 settembre, attraverseremo il centro della città, e ci ritroveremo nella piazza centrale della città dove avremo gli interventi dei nostri ospiti, del coordinatore di Stop the War Now, che è la carovana di associazioni in realtà della società civile che ha organizzato numerose carovane di pace ed è presente sul terreno con gli operatori di Operazione Colomba, sul terreno e sui centri lungo il fronte russo-ucraino. Avremo l'intervento del Cardinal Zuppi, avremo l'intervento del Sindaco Lepore e di Giulio Marcon a nome della coalizione nazionale Europe for Peace. Inaugurato questa mattina l'anno giudiziario del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, la cerimonia si è svolta in prefettura. Nel 2022 abbiamo definito oltre mille ricorsi nonostante la carenza di organico e quest'anno potrebbero esserci molti ricorsi sul super bonus, ha spiegato il Presidente del TAR Andrea Migliozzi. Lo sentiamo al microfono di Giuseppe Piloni. Presidente, qual è il bilancio dell'anno 2022? Direi che il bilancio è abbastanza positivo, anzi direi più che positivo in considerazione della riduzione di organico con cui operiamo, sia per quanto riguarda il personale amministrativo che quello di magistratura. Nonostante ciò abbiamo definito oltre mille ricorsi e soprattutto abbiamo definito in tempi brevissimi quelli che sono i giudizi cautelari, sia con riferimento a tutti i giudizi cautelari, sia con riferimento soprattutto a quelli che riguardano le procedure concorsuali di appalti di servizi e opere pubbliche, laddove addirittura riusciamo a chiudere questi giudizi in tempi inferiore ai 20 giorni, che siamo al terzo posto in Italia come tempistica. Quali sono le tipologie di ricorsi? Le tipologie di ricorsi soprattutto, mi premio sottolineare, sono quelli riguardanti l'immigrazione. Bologna e l'Emilia Romagna ha una consistente presenza di extracomunitari e l'esigenza di regolarizzazione e quindi di verificare la legittimità della loro permanenza sul territorio regionale, ovviamente oggetto spesso di condensiuso, a fronte degli atti che emanano le prefetture e le questure, e quindi siamo chiamati ovviamente a dare questa risposta. Queste sono quelle più frequenti però, altre tipologie? Altre tipologie sono l'edilizia e l'urbanistica, gli appalti che sono ben 80 ricorsi quest'anno, ancora quelli della sanità relativamente però a quello che riguarda l'inattempimento degli obblighi vaccinali. Il super bonus, adesso il governo sta occupando del super bonus, potrebbe dare vita a parecchi ricorsi? Come no, questo sì, anche questo potrebbe essere ovviamente questo ripensamento del governo potrebbe dar luogo a delle impugnative, le quante volte appunto relativamente a delle procedure già iniziate, queste dovrebbero essere oggetto magari di eventuali stop e quindi naturalmente i cittadini o le imprese in modo particolare potrebbero insorgere avverso queste interruzioni, insomma staremo a vedere. Andiamo alla politica con un faccia a faccia che apre la settimana prima delle primarie del 26 febbraio, ieri sera Bonaccini e Schlein su Sky si sono dati battaglia. Giofranco Parmigiani. C'è probabilmente un solo momento di patos, se così lo vogliamo chiamare, nel confronto TV su Sky dettato da uno scontato gentleman agreement, sono pur sempre esponenti dello stesso partito, tra Stefano Bonaccini e degli Schlein, nella coppia bolognese che il 26 si contenderà alle primarie la leadership del partito, oggi all'opposizione. Quello sui diritti in cui il governatore batte il chiodo della necessità di guardare anche a quelli sociali, non solo a quelli civili, pena la condanna a rilevanza numerica, ma di cui la Schlein incalzante più che mai sottolinea piuttosto la stretta interconnessione. Unico momento un po' pepato, dicevamo, ma emblematico di due modi di vedere il partito, la sinistra e l'eventuale governo del Paese in modo diametralmente opposto, nonostante i proclami di reciproca sottoscrizione di questo o quel paragrafo del contendente. Una differenza marcata pure dalla terminologia nelle risposte. Più politicante e realistica quella di Bonaccini, parola chiave la classica unità, più ideologizzante e visionaria quella della Schlein, parola chiave il giovanilistico collettivo. Insomma, si sente che Bonaccini ha già avuto a che fare con problemi amministrativi, la Schlein più che altro con pulpiti da assemblea. Qualche divisione si denota anche sul giudizio da dare alla Meloni e sulla modalità di competizione. Sguardo più manicheo quello della Schlein che inputa alla destra tutti i mali che affliggono l'uomo, più problematico quello di Bonaccini che preferisce la lotta nell'urna. Così come sull'atteggiamento verso la tragedia dell'Ucraina. Molto netto il giudizio di Bonaccini su chi sia la vittima, chi l'aggressore, più sfumato e pacifista quello della Schlein. Io credo che sia stato giusto sostenere in ogni forma di assistenza necessaria il popolo ucraino a difendersi da un'aggressione criminale che viola il diritto internazionale. Ma penso pure che non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile per mobilitarci, per chiedere uno sforzo diplomatico e politico molto più forte all'Unione Europea per creare le condizioni di un cessate il fuoco e per creare le condizioni di una conferenza multilaterale di pace. Perché purtroppo Putin non sta agendo da solo, non è isolato e quindi uno sforzo di tutta la comunità internazionale deve per forza arrivare. Ecco io credo questo, credo che noi non dobbiamo mai smettere, perché non c'è sinistra senza una forte mobilitazione per la pace. Se si ferma la Russia, finisce la guerra. Se si ferma la resistenza ucraina, finisce l'Ucraina. Sono parole belle e condivisibili che ha detto Gianni Cuperlo e che voglio fare mia. Io ci aggiungo che se finisce l'Ucraina rischia di finire il sogno europeo. Io sono del 1967, credevo di appartenere alla prima generazione che nel dopoguerra non avrebbe mai conosciuto l'orrore della guerra e delle guerre. Ed è stato giusto da parte del Partito Democratico schierarsi dalla parte di chi ha avuto in mani sofferenze, lutti e un sacco di vittime civili innocenti. E quindi era giusto schierarsi dalla parte di chi è aggredito, invaso e bombardato. Torna anche quest'anno l'iniziativa Pillole di Movimento, giunta alla dodicesima edizione, una campagna contro la sedentarietà promossa da WISP Bologna. Ne hanno parlato i presidenti Paola Paltretti e Paolo Pandolfi, il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausle di Bologna. Sta diventando davvero un appuntamento che i cittadini aspettano, perché è il dodicesimo anno che presentiamo Pillole di Movimento. È un progetto che vuole essere di stimolo ai sedentari, a chi non si muove per niente o chi si muove poco, a rimettersi in movimento, grazie a un mese gratuito in palestra e in piscina. nelle palestre e nelle piscine delle società sportive WISP che hanno aderito al progetto. Una buona parte dei cittadini poi svolge veramente il mese gratuito, ma tanti si interessano a capire che cos'è. E anche questo ha un significato, perché significa comunque sensibilizzare al movimento, le persone che hanno la possibilità di fare il mese gratuito oppure hanno comunque la possibilità di porsi la domanda mi devo muovere, sì, e quindi questo è uno stimolo. L'efficacia è di fondo quella di sistematizzare un messaggio che l'attività fisica e il movimento ha un valore che la scienza ha dimostrato molte volte. Quindi questo è il vero significato di fondo. Poi la realtà è che avere una comunità come questa così pronta a dare un contributo per avvicinare le persone a quelli che sono gli elementi, i luoghi dove si fa movimento, è fondamentale. Poi l'altro elemento sono i rapporti con i farmacisti che diventano soggetti che non soltanto danno pillole fisicamente costruite come classiche, ma in realtà diventano opportunità di informazione e di consegna di indicazioni buone per la propria salute. La Regione mette mano ad una delibera per fare chiarezza su come e dove installare impianti fotovoltaici in agricoltura nelle sedi industriali ma anche nei parcheggi. Un provvedimento a lungo atteso dalle imprese ma che ora è diventato una realtà o quasi. La Regione è infatti definito con una delibera le aree dove sarà possibile costruire impianti fotovoltaici semplificando le norme per imprenditori, agricoltori e cittadini e cercando di tutelare le produzioni agricole certificate. Un occhio di riguardo sarà riservato anche alle zone con una chiara valenza ambientale con l'intenzione di aprire più opportunità per i futuri investitori e diventare più indipendenti dal punto di vista energetico. La delibera è stata adottata lunedì scorso dalla Giunta regionale anche per chiarire alcuni dubbi interpretativi che derivavano dall'incrocio fra norme nazionali e locali sul tema che di fatto bloccavano o rendevano complicati gli interventi. Con questa nuova delibera che ora andrà all'esame dell'Assemblea legislativa per l'approvazione definitiva si vuole dare il nuovo slancio allo sviluppo degli impianti mantenendo ferma la tutela di agricoltura e paesaggio. In questo momento la Regione Emilia-Romagna dà una spinta in avanti per quanto riguarda il voltaico e quindi in particolare se ci sono produzioni di pregio in questi ambiti viene detto che si fa al 100% agrivoltaico così come nei 300 metri dalle infrastrutture stradali. Abbiamo anche deciso di salvaguardare quelle che per noi sono le produzioni di pregio dell'Emilia-Romagna e anche in quel caso è consentito l'agrivoltaico e non gli impianti fotovoltaici a terra così come abbiamo dato un impulso maggiore alla possibilità di mettere impianti fotovoltaici nelle cave dismesse o cave recuperate salvaguardando però anche in questo caso i corridoi ecologici o le produzioni di pregio. Abbiamo dato un impulso in questa delibera anche nelle aree di parcheggio quindi semplifichiamo le norme anche sui parcheggi e questo ci consente di arrivare a quelli che sono gli obiettivi del piano triennale dell'energia ma più probabilmente di arrivare anche agli obiettivi che ci consegnerà il Governo. Quindi ci aspettiamo che comunque anche attraverso il decreto legge che è stato approvato la settimana scorsa che ancora deve essere pubblicato ci siano delle indicazioni un po' più chiare nel frattempo noi stiamo andando avanti. Facciamo una piccola pausa. L'intestino è tuo secondo cervello mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata probioticamente gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale un uovo proprio TK mio rafforza le tue difese immunitarie da Pulfarma in farmacia Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine per la cura e la bellezza dei tuoi capelli in una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram Magica Parrucchieri ed estetica Lara via Procaccini 10 telefono 051 36 16 12 051 36 16 06 Le venti buone erbe Elisir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulfarma in farmacia Cerchi un'assicurazione auto semplice, veloce e conveniente? Fai un preventivo su Alliancedirect.it Poliziauto a partire da 161 euro Messaggio pubblicitario con finalità promozionale prima di sottoscrivere le G7 informativo sul sito Aspirnova Progetta, costruisce, installa Da oltre 30 anni operiamo nel settore dell'aspirazione industriale con l'obiettivo principale di trattare le emissioni di sostanze inquinanti e potenzialmente esplosive all'interno e all'esterno del luogo di lavoro Progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbie oleose prodotte da diverse lavorazioni Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica e straordinaria Le nostre mission sono Salute, sicurezza sul lavoro, ambiente Aspirnova Isarti degli impianti di aspirazione L'intestino è tuo secondo cervello Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata Probioticamente Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale Un nuovo proprio TK mio Rafforza le tue difese immunitarie Da Pulfarma in farmacia Vi aspetto tutti i giorni su ETV Proprio appena prima del TGI Con replica alle 14.05 Tutti i giorni dal lunedì al venerdì Con la bottega di Comanschi Una strisciolina di due minuti velocissimi Con l'uomo camion, i personaggi della mattina Il chitarrista dei New Trolls Il professore Tutti quei tuttologi da bar, da caffè Tuttologi che parlano di tutto E quindi alla fine dei conti anche di niente E quindi Zing Zing ETV La bottega di Comanschi Zing Di nuovo in studio Dal 24 al 26 febbraio a Bologna Ci sarà il primo festival in Europa Dedicato alla medicina culinaria Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Chiara Manzi Che ha fondato l'Accademia Europea di Nutrizione Culinaria Maria Elena Mele Mangiare un piatto di carbonara Senza sentirsi in colpa Per le calorie assimilate Oppure gustarsi un ottimo fritto alla bolognese Senza sentirsi appesantiti a fine pasto Tutto questo è possibile grazie alla cucina Evolution Il metodo di Chiara Manzi Nutrizionista e fondatrice Dell'Accademia Europea di Nutrizione Culinaria Per capire il metodo E gustarne la validità delle pietanze È proposto il 24, il 25 e il 26 febbraio Il primo festival in Europa a Bologna Tre giorni dedicati alla medicina culinaria Che si svolgeranno in fiere al ristorante Libra Grassi, zucchero e sale sono normalmente i veicoli del gusto Noi insegniamo a cucinare in modo goloso Ricco di antiossidanti e leggero Senza rinunciare ai piatti della nostra tradizione In sostanza quello che lei dice da diverso tempo Diventa un festival o comunque una conoscenza più ampia Assolutamente Sono convegni, cooking show, laboratori, corsi di pasticceria Addirittura stare in forma mangiando dolci L'appuntamento è in fiera a Bologna E al ristorante Libra in via Tessoni 10 È un po' il coronamento di tanti tanti anni di studi, di lavoro Perché ho messo a punto un metodo scientifico Che si chiama Cucina Evolution Per stare in forma mangiando ogni giorno Carbonara, pizza, fritti, dolci Insomma tutti i piatti che più ci piacciono Soprattutto quelli della tradizione italiana Ecco è un po' anche questa una sfida Mantenere il gusto, il sapore e star bene Con questi prodotti qui che ha detto lei Cioè carbonara, dolci È una cosa quasi impossibile verrebbe da dire Ma è l'unico modo per riuscire a mangiare sano Perché le diete sono uno strazio Ci tolgono tutto ciò che ci piace E la salute non è soltanto le analisi a posto È anche un benessere psicologico Stare bene a tavola Poter mangiare sano Mangiando ciò che ci è più familiare I piatti della tradizione È non solo la cucina del futuro Ma è un'esigenza di tutti Ha preso il via al Policlinico Sant'Orso La make up in oncologia Un trucco per sentirsi meglio Impegnati nel progetto Consulenti della bellezza CNA Con la collaborazione dell'associazione di volontariato Loto Andiamo a vedere di che cosa si tratta Dal 2011 a Bologna Più di 350 donne in chemioterapia Hanno ricevuto consigli utili Accorgimenti e suggerimenti Per affrontare gli effetti tipici e temporanei Delle terapie oncologiche a cui sono sottoposte Attraverso incontri mirati Con consulenti della bellezza CNA Riscontrando notevoli benefici psicologici Nell'affrontare la malattia Ecco allora il progetto Un trucco per stare meglio Make up in oncologia Di CNA Bologna E IRCS Policlinico di Sant'Orsola Con il sostegno dell'associazione di volontariato Loto L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 10 Tra acconciatori ed estetisti Associati a CNA Bologna Che gratuitamente offrono questo servizio Come negli anni scorsi Gli incontri sono mensili E le pazienti possono prenotare la consulenza All'infermiera di riferimento Per poi essere ricontattate telefonicamente E fissare l'appuntamento Loto impegnata nella lotta al tumore ovarico E ai tumori ginecologici Collabora anche con un kit per il make up Sicuramente per una donna Perdere i capelli è un momento difficile Che si affronta non sempre a cuor leggero E quindi poi questa rinascita Quando crescono i capelli Appunto con anche questa coccola in più che ci hanno regalato al Sant'Orsola È stato molto apprezzato Taglio i capelli, accomodo le parrucche Le lavo, insegno anche la cliente a lavarla, a gestirla Sicuramente affrontano meglio questo periodo della loro vita Noi le insegniamo come farlo I trucchetti del mestiere Che non insegniamo a tutti Insegniamo a queste donne Per sapere a vedersi più belle A farsi più belle L'impatto che le terapie hanno Sull'aspetto fisico delle persone In primis i capelli ma non solo i capelli Sono tra quelli più temuti Dalle donne che si sottopongono a chemioterapia E quindi la possibilità di prendersi cura Anche del proprio aspetto Rientra in quella visione generale Olistica in qualche modo Della presa in cura della persona E questo, guardate bene, ha una valenza importante Perché aiuta a migliorare l'adesione alle cure Che vuol dire fare le cure nei tempi giusti Con le dosi giuste E la persona che riesce ad aderire meglio alle cure È una persona che ha anche maggiori probabilità Di ricevere un effetto positivo da quei trattamenti Questo era l'ultimo servizio Noi ci fermiamo qui per questa sera Grazie a tutti per averci seguito Una buona serata Da oggi l'informazione di ETV Rete7 È disponibile gratuitamente sul tuo smartphone E potrai accedere a tutte le video news Prodotte nel corso della giornata In tempo reale Grazie a tutti per averci seguito